13 dicembre ed eccoci arrivato con il consueto appuntamento del calendario dell'avvento di GameStop andiamo a vedere a che ci starà mai oggi allora cominciamo con Capitain Tsubasa per PS4 a 9,98 la Dark Souls Trilogy a 24,98 Dragon Ball Z Kakarot a 16,98 per PS4, PS5, Xbox One Xbox One Serie X One Piece Pirate Warrior 4 PS4 a 14,98 Grid Legends a 9,98 per la qualunque no volevo dire PS4 o PS5 scusate Ninja Boruto Ultimate Ninja Storm Connection a 50,98 per qualsiasi cosa sia uscito e le Headset Turtle Beach Force Recon 70p di la qualunque colore a 19,98 andiamo 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 oh quante cazzo le han fatte andiamo andiamo ah finito no c'è ancora una ancora una ecco beh l'ultimo colore è degno di nota che saranamente è anche quello esaurito bene detto questo ci vediamo domani con il prossimo appuntamento ciao a tutti che c'è Grazie.